Nono appuntamento domenica scorsa Osimo con il cross della Val Musone, uno dei principali appuntamenti della corsa campestre a livello nazionale. Iuri Bogogna. Il cross della Val Musone si conferma appuntamento clou per i migliori atleti della campestre a livello nazionale. Al campo scuola della Vescovara sono in tutto 600 gli atleti al via nelle diverse categorie. La gara, organizzata dall'atletica Amatori Osimo, è il secondo test nazionale valido per la convocazione in azzurro per gli europei di specialità che sono in programma a Dublino il 12 dicembre. Nelle 10 chilometri maschile il successo va a Giuseppe Gerratana, siciliano dell'aeronautica, con già quattro convocazioni in nazionale all'attivo. Va in fuga a metagara e tiene il vantaggio fino al traguardo. Per lui è il primo successo nella gara di Osimo. Tra le donne, la distanza in questo caso è di 7 chilometri, si impone Anna Arnaudo, piemontese del Custorino, argento europeo under 23 nei 10.000 metri, al debutto nella gara di Osimo. Stacca le avversarie dopo due chilometri e arriva con mezzo minuto di vantaggio sulla seconda. E alla fine delle gare competitive, spazio ai piccoli atleti alle prime campestri. Promozioni invernale per un'atletica che, dopo l'estate degli Olimpici, sta vivendo un boom di tesseramenti fra i giovanissimi. Grazie.